oppure per terra ma ci siamo assicurati che è la stessa della partita da Arsenal a Resort va bene si no veramente no noi stiamo andando da Airfield verso Runway te la sei inventata adesso dove andiamo? c'hai la credibilità inesistente dove stiamo andando quindi? power plant negozio ok ok facciamo la bandierina andiamo figa figa al centro di power plant ok chi è questo millsim? e baffanculo vedete si deveva vedere merd oh che puoi da me? io non ti ho sparato state spara a me allora mi sa che è Simone che ti sta sparando ma come faccio? come hai fatto a sparare a te? non lo so mi hai craccato bla siamo compagni di squadra tanto vorrei dire no stavo a testarvi a Simone oh oh mi hanno sparato mi hanno sparato continuano a sparare sto entrando sto entrando ok qualcuno ha ucciso quel tizio nella casetta? no si si simone ok dove sei? si dove sei? sto cercando a raggiungere ci sono strano ma chi è che c'è la ragazzo è una skin chi è questo? è Flavio eh non ti sei messo allora millsim? ma come no? no c'è la millsim io ti vedo millsim io ti vedo millsim non 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 ti vedo millsim esatto c'è il turbo c'è le pin fermati fermati io ti vedo millsim normale aspen ho mandato la foto su warzone aspen simo stai fermo stai fermo arrivo ho sentito un nemico in arrivo eh ho sentito un nemico in arrivo eh oh c'è uno al centro di powerplant ne sono due 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 arrivo ma regà siete nudi lì oh siete in sei benvenuti nel gulaglio chi sopravvive conquista la ah Federico dietro Federico dietro Federico fai un po' di tiro all'versario mentre aspetti provocare il nemico è utile per cargli della testa lo è anche un sasso ben piazzato l'ho fatto ma quindi io che cazzo me la scelgo a fa' la skin se gli avversari ti vedono in una maniera diversa scontro in corso preparati a combattere sei il prossimo ma al negozio chi è che sta sparando come cazzo sono morto qua Federico dietro Federico dietro Federico dietro Federico dietro dove sono morto io dove era? se perdi sei quali ho fatto il giro ho fatto il giro ne sei uscito male ti riportiamo a casa c'è sopra Nico sopra i soldi posso pagarti la cauzione ci ho fatto e dove stavamo prima si 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 no non è simone 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 si no no ti assicuro cioè ho mandato la foto sul 2 simone io ti vedevo mi simone normale io io sono io sono io penso di essere io penso di essere io uccidilo poi al massimo ritirano su qua qua oh oh stai entrando nel negozio non t'ho sparato a te non t'ho sparato a te lui ha avuto una buona mira simone a differenza tua non t'ho sparato si si ti sto ti sto difendendo è simone che ha craccato un Nicolo o Federico sempre vuoi essere sicuro ergo ergo non sono noi ma è infatti c'avevi cual si credo di non morire do qua non ma Quanto sono rimasto? Oh, avevamo capito che stavi sotto, scusa. So io, so io! Io? Sto cercando la cassa. Io no. 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 Io ho 100 dollari. Abbiamo 1.6 in totale noi. OOOOH! Non siamo noi, non siamo noi. Ma che so, aveva una milsim. C'è un altro milsim. Non c'è l'armi. Per quanto non vediamo di essere. Fatto, fatto. Timo è nientato, sì. Timo è nientato, sì. Timo è nientato. In mezzo ai 2 market. In mezzo ai 2 market. Sotto a ripercato. Davanti a voi. Verso l'equipaggiamento. Sta andando all'equipaggiamento. Sì, andiamo all'equipaggiamento, dai. Andiamo all'equipaggiamento. Sotto a ripercato. Non hai piastro, però, eh? Lo so, ma non c'ho piastro. Chi è qua? Chi è qua? Chi è qua? Si stanno a sparare qua, eh, raga? Occhio. Eh, non so, oddio. Eccoli, li vedo. In fondo, in fondo. A nord. Precisamente a nord. Ok. Ok. Sì, la mia domanda. Corazza, qui! A 328, raga. Dietro. Dietro ce l'abbiamo. Dietro sulla montagna, sì. Su test. In movimento! Sì, a me. Sì, sì. Sì, di c***o. Sì, di c***o. Sì, attacco! A 105 pure uno. 5? quindi non siamo neanche sei però mai che non li vedo sto facendo il giro facendo il giro sulle case alla casa in blu si era il suo seguente sono vicinissimo al negozio io io sto seguendo un po di da me ottimo fra notato calza di piastre la lancio c'ho 2000 io vicino al ricercato vicino al sciagallo non ho niente qui ci sono soldi si ce l'ho io ce l'ho io dove sono morti quelli chi sta nella casa bianca io vado da dj madonna la pita automatica porca troia ogni volta che mi postate vicino ma mi sminchi aterrato finito antonio antonio no al market c'erano un sacco di piastre andò passa per il market che trovi le piastre lasciate da noi e anche delle armi lì li potete pingare vuoi che andai al market corazza qui corazza qui è mio il cecchino ma uno dei sti stronzi ci aveva una cazzo dei mitraglietta si e ho lasciato un AUG qua presa scivolosa no ma ho preso il cecchino di questo se vuoi ci sta un type 100 che posso lasciare un type 100 viola faccio questo tentativo con tra il polizio ok contatto in movimento contatto 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 dove andiamo raga io vivo scusa di otto ok andiamo a motel ok ok io sono dentro il motel e a voi vi laghi? si i server non prevedono ragazzi abbiamo dietro ho preso caccia grossa sta laggando tantissimo mamma mia dietro dove? dietro di noi raga a direzione est direzione est sta arrivando dalla dalla safe sta attraversando il fiume da uafi nemico in volo nick non sei andato troppo avanti andato troppo avanti andato troppo avanti andato troppo avanti andiamo a lootardi un po' che avevano? erano dei boracce peggio di noi erano dei boracce peggio di noi mi sa che nessuno sa chi è che sta sparando? chi è che sta sparando? nico non ti lancia troppo non ti lancia troppo alla garibaldina sono nel fiume sono nel fiume raga non so poi ma a me mi sminchia la mira a me mi sminchia troppo la mira comunque sono troppo della casa bianca? ok si si mi stiamo facendo niente di mare io ho messo a cercare una partita no no sono in quella gialla craccato dentro la casa gialla ragazzi abbiamo anche a sinistra un altro un altro cacciacross abbiamo preso noi gas in arrivo sta esattamente dietro di noi alla zona sicura alla zona sicura oh devono uscire una certa ahhh allag ha laggato la testa fatto fatto ci abbiamo un altro team raga a 20 20 nord est si si sta atterrando si sta atterrando non siamo noi casetta bianca no l'ha laggata altissima no vabbè l'ho craccato l'ho craccato in qualche modo dentro la casa bianca l'ho craccato per vita è lanciata era un altro c'era un altro c'era un altro c'era un altro ancora no ha fatto billy ha fatto billy no c'era un altro ancora c'era un altro ancora c'era un altro sono assurdito so caduto oh mi sparano casa a destra ma quanti cazzo so raga qui io 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 non avevo più un ministro morto morto io sono rimasto solo io sono rimasto solo io si si raga rianima al market proteggetemi no io c'ho 8000 riascate di rianimarli rami proteggetemi mamma mia crazy coratta qui qua ci sono delle armi a terra eh si ho bisogno di armi io si terra ci sono dei armi che le sta pingando prendete le piastre prima che vanno nel gas gas in arrivo alla nuova zona sicura mitragliatrice leggera qui allora raga distribuisco un po' di munizioni per il team per me qua ci sono 2100 che ce l'ho io ce l'ho io ce l'ho io qui ci sono soldi io pure c'ho delle munizioni da buttare e mi ha fatto ci sparano tirate la cassa tirate la cassa avete dei piatti in arrivo no raga io sono rimasto senza perchè non vi siete ricaricati sta dietro quell'albero munizioni io eh vabbè non avete buttato per terra munizioni ragazzi eh qua ci stanno munizioni eh alla cassa ci stanno munizioni ti è andato più a destra io sono alla sinistra della macchina con una delle vostre no pure io ce l'ho corazza qui il cavante lancià ne restano 25 stai andando bene ok raga non lanciamo granate sennò rischiamo di applicarci tra di noi raga io c'ho la cassa di protezioni eh butto le protezioni e la lancio no no io ce l'ho io ce l'ho vedete e se ce l'hai butta le riviatele che a me servono spingatele agli alleati assalto ce l'avete? si il 40 quanto ti serve? sono persi noi siamo al secco non vedo le munizioni noi siamo al secco totale si arriva il gas davanti a te davanti a te atterrato si hai animato qualcuno? l'ho ucciso ok altra cassa di protezioni ci sta eh assalto ce l'ho? ah no 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 so pieno so pieno si 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 finisce a pugno si e beh ok c'è un team dove? eh dritto davanti a noi al di la del piume proprio eh la mira belli lontani lontani anche 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 perché raga se siamo troppo vicini la mira noi siamo sei quindi son nove nove io sto guardando a ovest al di la del piume sentite facciamo il team mio guarda a ovest e il team vostro guarda a est così almeno sono sto guardando a nord boom shakalaka allora salutiamo dove stai? dove stai? gas in arrivo spostamento della zona sicura a ovest c'è un team c'è che stanno andando a ovest del vostro team? si io non ho affanculo che mi più a ovest quando attraversiamo raga? mamma mia non ho fatto a terra arriva il gas e siamo siamo sono io sono io dalla casa raga dalla casa fatto? eh sì le avevo detto eh raga mi si cosa troppo la mira mi devo allontanare fuori striker 3 ricevuto attacco in corso oh sono io sono io sono io sono io quello beh ha crackato nessun colpostino ho fatto no no ancora due no 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 ancora due qual'è l'altro? c'è i proiettili c'è i mici dell'area nick torna indietro torna indietro torna indietro vieni qua io sono tutto a destra eh atterrato 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 grandissimo fedeli mi hai protetto il culo sta sempre là sta accanto a quello che è atterrato l'altro atterrato 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 uno atterrato uno si è rianimato eh chi è quello sotto? mi hanno colpito mi hanno colpito mi hanno colpito cazzi in movimento nuova zona sicura individuata io 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 è morto siamo solo noi ragazzi siamo solo noi fermatevi basta buttate tutte le armi cazzi in arrivo alla zona sicura no nessuno o ti viene da o ci riesce o un mi stanno osservando in quattro mi stanno osservando in quattro io l'ho buttato pure io raga forza eh mi stanno osservando in tre a me no 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 aspetta aspetta facciamo turni a round a round forza spade il porca al centro spade il porca al centro spade il porca al centro dai dai fla dai rega mamma mia aspetta dai ma che non vale così dai eh certo pur bevi dai raga fate schifo fate proprio schifo è stato simone a fare schifo eh Io ho aspettato fino all'ultimo E ho fatto un uno contro uno Ho fatto un uno contro uno No, non si fa così Prenditela con Simone Io ho aspettato fino alla fine No, no, io voglio restare Ah, giusto Non ci insulta nessuno